Noi facciamo anche tre monocultivar che sono quelle più presenti sulla zona, il moraiolo, il leccine e il frantoio, e un polivarietale che racchiude un po' tutti i sapori e gli odori degli altri tre, è un olio molto rotondo per cui non ha note di spicco sugli amari o sui piccanti, è qualcosa che trova una giusta collocazione un po' su tutti le varie pietanze a cui può essere abbinato. Le altre tre hanno un giusto senso se le si colloca nella maniera giusta, per cui il leccino ha un bel piccante però ha gli amari più tenui, più dolci, più mandorlati, il frantoio invece è più carciofato, quindi ha un amare molto più intenso, molto meno sui piccanti, il moraiolo è molto speziato, è come se avesse tanto pepe dentro.